Io lo tengo come uno dei gol più belli che ho fatto nella mia carriera È stato un gol dove Dida mi ha lanciato la palla Io ho fatto un scontro con Fletcher Poi stava arrivando Heinz, ho cercato di fargli il pallonetto Poi quando ho guardato la palla ho visto che stava arrivando Evra E l'unica possibilità che avevo di arrivare prima di lui era mettere la testa Quando ho messo la testa sono riuscito ad arrivare prima Lui si è scontratto poi con Heinz Io ero davanti alla porta E lì una cosa che mi piace è sempre piazzare la palla Non mi piace tirare forte quando sono davanti al portiere L'ho piazzata di fianco al portiere Poi sono uscito ad esultare Poi sono uscito ad esultare